Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra il Bivio per Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Ci spostiamo sulla A11 dove in direzione Pisa per incidente un chilometro di coda tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze code per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata nei comuni di Barberino e San Casciano-Val di Pesa all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!